C'è una frase di un vecchio filosofo che dice siamo ciò che mangiamo. E in effetti se ci pensiamo, è vero, quante volte capita magari di sgarrare un po' con il cibo e subito compare un brufolo sulla pelle? La pelle è uno degli organi principali della depurazione e nutrirla con i giusti alimenti dall'interno è fondamentale per mantenerla bella e sana. Oggi ho selezionato per te tre tra i migliori semi che la natura ci dona proprio per migliorare la qualità dei capelli e della pelle. In genere quasi tutti i semi che troviamo in natura hanno degli effetti benefici sul nostro organismo e possiamo mangiarli così come sono oppure sceglierne l'olio che ne deriva. Chiaramente in quest'ultimo caso è sempre opportuno scegliere un olio che sia pressato a freddo perché appunto il calore distrugge parte dei nutrienti contenuti nel seme. Il primo seme che scopriremo oggi è uno dei migliori semi per la bellezza della pelle e dei capelli ed è molto usato dalle aziende di cosmetica e anche per uso alimentare ed è il seme di lino. Magari già ne hai sentito parlare per le proprietà che ha sullo stomaco e sull'intestino ma oltre a queste è anche molto indicato per rafforzare i capelli e purificare la pelle. Ad oggi sono diventati abbastanza comuni ed è facile trovarli in quasi tutti i supermercati. La dose consigliata dai nutrizionisti è di uno o due cucchiai al giorno magari mischiati alle insalate o alle zuppe invece per l'applicazione sulla pelle o sui capelli ci sono delle maschere o degli impacchi che vedremo sicuramente in un prossimo video. Un altro seme benefico per la nostra bellezza è il seme di girasole. Grazie alla presenza della vitamina E, degli aminoacidi e di molti altri nutrienti svolge un'azione antiossidante sul nostro organismo ovvero contrasta l'invecchiamento delle cellule. Pensa è utilizzato spesso come base su molte creme antietà e viene consigliato come ottimo rimedio da applicare sulla pelle in caso di irritazioni e arrossamenti. Possiamo integrarlo nell'alimentazione quotidiana sia utilizzando l'olio oppure direttamente i semi decorticati magari aggiungendoli allo yogurt senza mai superare la dosi consigliata di due cucchiai al giorno. Un ultimo seme molto indicato per la bellezza della pelle è il seme d'uva o meglio conosciuto con il nome di vinacciolo. Oltre ad essere benefico per vari disturbi il vinacciolo contiene molti nutrienti che stimolano il collagene quindi attenua le rughe d'espressione e altri segni del tempo sulla pelle. Questi si trovano dentro il chicco d'uva ma se non vuoi aspettare il mese di settembre prima di mangiare un altro grappolo puoi acquistarne l'olio che è anche molto indicato per trattare i capelli e la pelle dall'esterno. Lino, girasole e vinaccioli tre semi per la nostra bellezza beh non ci resta che provarli ci vediamo alla prossima ciao